6 milioni. Tanti sono gli italiani che quest'anno l'influenza potrebbe mettere a letto, stando alle previsioni degli esperti. Il male di stagione è atteso per fine novembre e il picco dei casi dovrebbe verificarsi a ridosso delle vacanze natalizie tra dicembre e gennaio. L'influenza sarà caratterizzata da tre ceppi virali, il ceppo A-H1N1, già presente l'anno scorso, e due nuovi ceppi, diversi da quelli che hanno circolato negli ultimi due anni, Vittoria e Wisconsin. L'infezione si trasmette prevalentemente attraverso le goccioline di saliva emesse con la tosse, lo starnuto o anche semplicemente parlando. I sintomi più comuni, febbre sopra i 38 gradi, mal di testa, brevidi, stanchezza, malessere generalizzato, tosse secca, mal di gola e naso chiuso. Solitamente la malattia dura circa una settimana e si risolve con la guarigione. In alcuni casi però possono verificarsi gravi complicazioni soprattutto nei soggetti fragili, come bambini sotto i due anni, anziani, cardiopatici, diabetici, asmatici e donne al secondo terzo trimestre di gravidanza. Come tutti gli anni, anche in questo avvio da turno, quindi, l'azienda Asla 2 sta organizzando la campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale, che partirà verso la prima metà di novembre. Il vaccino è gratuito e raccomandato soprattutto per i soggetti con più di 65 anni e per i malati cronici e chi soffre di patologie cardiache e respiratorie, oltre che per i soggetti addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, ad esempio insegnanti, operatori sanitari, forze dell'ordine.